Per l'interno premere due, poi uno, quattro, sette. Prego dica a me. Perché perdere tempo? L'energia ha oggi un cuore tutto pugliese. Gold Energy. Gold Energy ti garantisce tariffe personalizzate e competitive di luce e gas, con la certezza di un consulente reale che risponde sempre e che troverai costantemente presso il tuo punto di riferimento, con l'obiettivo di risolvere tutte le tue necessità velocemente in tempo reale. A chi sottoscrive un contratto gas e luce presso i nostri point entro il 31 maggio, Gold Energy rimborsa il canone Rai. Ti aspettiamo. Gold Energy luce e gas, l'energia che ti conosce.